buongiorno ragazzi siamo qui per vedere il rinculo del carra perché sono qui e non sono lì perché vi faccio vedere proprio il rinculo contro il muro sparando contro il muro come rincula l'arma ok adesso spariamo contro il muro ok il rinculo è così va verso sinistra in alto tantissimo e poi leggermente verso destra e poi colpi si raggruppano come un po tutte le armi diciamo che un rinculo abbastanza importante il car no quindi io per aggiustare questo rinculo ovviamente dovrò usare il corpo e andando leggermente verso destra e in avanti adesso dopo ve lo spiego andiamo subito considerate che ho un'arma bianca quindi completamente priva di accessori e ho solo 20 colpi bene adesso andrò a sistemare il rinculo se io invece di sistemare in culo col corpo come ho sempre spiegato anche nel video col flatline decidessi di usare soltanto r3 comincerebbe a diventare un po più complicato la cosa perché hai solo una levetta cui devi far tutto devi andare in basso devi andare destra e andare sinistra ti caso che un avversario si muove diventa molto complicato e molto più difficile controllare un'arma quindi io consiglio di usare il corpo destra sinistra e su e giù r3 adesso sparerò soltanto usando r3 ok provo ovviamente mi ha buttato completamente il mirino a sinistra non appena io ho controllato il rinculo verticale ho dovuto subito correggermi ok l'ho corretto l'ho craccato io l'ho scelto con 70 di vita uno dirà però l'hai con 70 di vita soltanto il fur rosso tu hai un'arma bianca mica male ok però sto sparando un manichino non ho nemici vicino ho preso una mira eccetera eccetera impensabile pensarlo in un fight quindi cosa dico io quando ho cominciato a sparare l'arma mi ha buttato completamente a sinistra a quel punto subito io ho corretto ma come faccio io solo con r3 a correggere immediatamente a memoria cioè diventa difficilissimo da pensare ma se so in preventivo il movimento che posso fare con l3 io lo posso evitare vi faccio vedere adesso userò il corpo e questo r3 e l3 allora io so che lui va verso sinistra sale poi leggermente verso destra quindi io devo andare verso destra col corpo e in avanti per controllarlo provo direi che è andata bene perché se io pensassi di usare soltanto questo non voglio essere ripetitivo e diventa impetitivo ragazzi invece se uso il corpo io devo soltanto andare in basso con r3 e seguire col corpo la direzione del rinculo cioè verso destra in avanti cioè non ho mai grossi problemi qualche colpo l'ho missato ma comunque avendo missato guardate quanti dita io ho lasciato guardate quanti colpi io ho 20 colpi adesso vi dico una cosa il cara 20 colpi ok proverò a tirarlo giù senza fare headshot se ci riesco non ce l'ho fatta peccato ok ce l'ho fatta allora sì uno può dire ce l'hai fatta ma sei da vicino lui è fermo sì è vero senz'altro però considerate una cosa vi faccio vedere una cosa in questo modo di mirare se voi ci fate caso vi faccio vedere quanti colpi ci vogliono per terra giù un full rosso col cara io ho 20 colpi ragazzi bene 18 colpi ragazzi ci vogliono cioè ci vogliono 18 colpi su 20 tirare giù uno full rosso vorrebbe dire metterne 18 su 20 sapete che percentuale a mettere 18 su 20 a ragazzi quindi ascoltate un consiglio se volete ascoltarlo vi muovete col car leggermente a destra e avanti quindi un movimento diciamo non circolare a massimi luna volete chiamarlo o in diagonale come volete però andate sempre verso destra in avanti e con l3 ed in culo verticale andrete a fare veramente male la distanza ravvicinata in quanto un'arma di distanza ravvicinata non ha senso che vi faccio un video da medio raggio col car non ha proprio senso secondo me questo vale sia quella per ottica per uno che ovviamente col mirino di ferro che è un po più difficile ma vabbè perché si vede poco perché hanno la stessa sensibilità sono considerate uguali e quindi il gioco ha messo una sensibilità per entrambe le cose sia per il mirino di ferro cioè questo quello originale sia per la per uno secondo me è una giusta cosa perché alla fine non zooma nulla adesso vi faccio vedere la per due a differenza del flatline in cui non l'ho fatto qui lo voglio fare perché mi hanno detto diverse persone che lui usano la per due vogliono capire se si può aggiustare un po di più con la per due la mira perché ovviamente rincula di più la risposta è sì si può fare però e oltre a questo movimento che vi spiego bisogna andare a cambiare la sensibilità per ottica perché come si sa già le ottiche che zoomano il rinculo si fa sentire di più ovviamente perché tu più vai vicino più il rinculo effettivamente è più difficile da controllare quindi cosa bisogna fare bisogna andare a vedere le sensibilità per ottiche modificarlo c'è chi usa le personalizzate che io consiglio c'è chi no io uso le personalizzate vi faccio vedere cosa vado a modificare allora controllo avanzate ottica per due allora io nell'ottica per due c'ho già il due perché perché io ci uso esclusivamente flatline e r301 diciamo la maggior parte r301 quindi l'1.2 a me basta perché è un'arma abbastanza ferma e quindi non è che la devo alzare tanto in questo caso devo usare il car quindi probabilmente la dovrò portare almeno a 2.4 però proviamo con l'1.2 per vedere cosa succede allora io sto sparando senza averle mai provato proprio la prima volta ok ok da questa distanza direi che va bene però uno usa la per due anche perché magari ci vuole allontanare un po' perché da questa distanza uno mi dice beh io uso la per uno uso la per due perché amo tanto il car lo voglio usare insieme a un pompa e quindi vorrei usarlo anche dalla distanza leggermente più lunga che io sconsiglio però ognuno fa come vuole quindi da qua e da qua diventa impegnativo innanzitutto noi sappiamo che il rinculo funziona in quel modo quindi so che il movimento che devo fare è sempre lo stesso cioè leggermente avanti in diagonale r3 proviamo senza aver modificato la sensibilità per quest'arma mmm ok cambia qualcosa ovviamente perché avete visto come non sono riuscito a tenerlo basso ma si è alzato perché la sensibilità forse va modificata vedete come si alza adesso la vado a modificare per fare una prova insieme a voi postazioni controlle per due mmm proviamo quattro e vediamo poi le rimetterò a posto perché non servono per il flat e scusate per il 301 ok riproviamo così ok il rinculo verticale è andato molto meglio perché ovviamente la sensibilità mi ha aiutato ripeto io c'ho solo 20 colpi l'arma completamente bianca c'ho solo un'ottica quindi fate conto se io avessi tutti gli accessori o voi avesse tutti gli accessori beh dai 165 mmm non mi lamento ho smirato parecchio lì sì sono d'accordo ok quindi quando usatela per due ragazzi ricordate di andare a modificare la vostra sensibilità se vedete che non riuscite a controllare il rinculo verticale la sensibilità per ottica vi aiuterà tantissimo per quanto riguarda il destra-sinistra ve l'ho già detto col corpo e leggermente avanti in diagonale a destra ragazzi ho detto questo voglio provare a fare qualche traccata con l'arma full per farevi rendere conto di quello che ho detto allora l'arma full ovviamente è questa proviamo adesso se cambia qualcosa non lo so completamente un altro discorso ok proviamo oddio cos'è successo è scoppiato qualcosa no? ok adesso rimetto l'aperottica 1 da vicino arma full che sono i fight che si fanno di solito direi che è un'arma molto forte si quindi leggermente a destra in avanti ragazzi non potete sbagliare un colpo da questa distanza sarà un po' più difficile ma ci si prova direi che ragazzi questo rinculo a me mi ha aiutato tanto allora corpo importantissimo lo ripeto un'esima volta poi chiudo il video leggermente in diagonale a destra e in avanti ragazzi io chiudo il video spero vi sia piaciuto che vi sia stato utile che non vi abbia annoiato che soprattutto vi abbia aiutato e ci vediamo al prossimo video grazie a tutti iscrivetevi al canale se ne avete voglia scrivetemi se volete altre armi portate se siete soddisfatti se posso migliorare qualcosa non c'è alcun problema accetto qualsiasi tipo di consiglio e ci si vede in game ragazzi ciao ciao alla prossima